bentornati benvenuti belli e brutti ho saltato un giorno chiedo scusa ma ho fatto qualche problemino stato un po male tolini di grave si vede un po scuro dovrei cercare alti e bassi ciao goblin tra rose e verdi come stai allora intanto vediamo un po un attimo i rituali giornalieri direi ci facciamo subito questo mi avvicino un piede di più il rito della campana che ci sta domani no domani ho la mattina libero dovevo lavorare al pomeriggio ma mi ha detto il mio fratello di stare a casa cioè no dovrei andare da mia madre in realtà però vedere un po come la situazione se no e volevo prendere anche questo niente comunque se la settimana prossima inizio a lavorare anch'io è abbastanza bene comunque dai ho iniziato un po tardi ci ho avuto un ospite e allora di solito inizio a 10 e mezza ma vabbè così devo ancora finirlo mancano due credo se non ricordo male basta ok allora vediamo un po cosa questo così ci prendiamo quella skin del martello del andriano è del martello credo pare di ricordarmi allora ce ne facciamo una da killer una o due da killer poi voglio iniziare a sopravvissuto con si va insacchiettare i superstiti si 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 spera si spera che non mi trollino volevo poi da survivor giocare con con il mio compare streamer e con la nostra follower che abbiamo in comune si ci si 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 prova tanto siamo qui per divertirci spero spero di saper intrattenere un minimo ci si prova è già la seconda volta che inizio una live a mezzanotte non mi dispiace non mi dispiace per nulla se se infatti infatti assolutamente ho cambiato le impostazioni di encoding spostato dalla cpu alla cpu è aumentato un po il bitrate però ho messo come carico ultra fast in modo da decidere il sistema ma che cazzo è la sua vita ah non è avvenuto il colpo wifi eh eccola lì performance grafica eh c'è il coso la voglio mettere l'app che c'ho eh sì perché da qualche parte ho letto ah no è meglio mettere il carico sulla cpu perché il rendering è migliore rispetto alla cpu non so no dovrei fare alcune prove c'è un'altra clodette nel suo habitat naturale arca paletta la clodette è sempre buona che fresca bontà eccola ma ma guarda si diverte tanto vedo di non perderti di vista te che sei qua ecco l'ha salvato eh speravo mi sta già facendo perdere troppo tempo la signora qua ma puttana la sua oh benin l'ho presa ce n'è voluta ma allora andrei in cerca del gancio uuuu direi che abbiamo completato il sfrigolio salsiccioso quindi sfrigola 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 ops eh ma che cazzo mia sto qua sto gobo dal cazzo e gobo non intendo giuventino eh sia chiara purca pollino guarda guarda anche sto qua altro che polli eh che di solito il pollo sono io che faccio delle cappelle che che manco in chiesa quella cupola di di che cazzo non so guarda quanto sangue guarda guarda eh t'ho sentito ma si ma si fantastico eh 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 ok vittima ricerca della prossima vittima ecco 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 è passata di qua t'ho vista t'ho vista eh siamo su di qua a vedere un po' porca pollino tornate indietro eh niente sì ma guarda quanto sangue che perde sembra che ci abbia quelle cose lì ma perché non sei passata di lì scusa fammi capire dove sei eh perde olio perde olio il spettacolo guardalo guardalo sto schifo vieni qua non andare a salvarla non beh lì va eh un attimo un attimo addio ah dove dove sei cazzo andato di qua finisco questa e ne sì ma che palle sto schifo qua sempre attaccata lì altra pesa lì direi che andiamo ecco visto visto non so neanche a diventare invisibile perché abbastanza inutile guarda guarda come colore clodette sempre buona che fresca bontà eh braccia si vieni di 10 cm pensa un po' quando deve eh vabbè non non dico altro perché potrebbero cioè essere dei bambini a guardarci qui signori ma dove cazzo sei fuori no spettacolo gran casino infatti aspetta eh che merda uuu attenzione che qua magari se eh ogni tanto eh se ogni tanto distruggiamo hai lasciato una pozzanghera qua eh un'incussiva madonna dai ma sei una mmm madonna dai buttalo giù è t'ho presa eh allora è pronto bambini in tavola vedi vedi poi ci sei infatti infatti guarda guarda qua guarda ma ti sembra normale eh io non lo so bene ma usa un tappo o un qualcosa ma ecco ecco bambini pronto zack 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 no C'è la nostra amica C'è la mia Claudette Claudette vieni qua Madonna Che ti tiro una sifonata Che ti levo giù i birili Che ti levo Dio Vieni qua vieni qua Che sei andato Quella quel gen sta finendo Quel gen sta finendo E un anno se ne va Sono diventato grande Non so che non mi va Vieni qua bocca Si Zack Arrivedoci Arrivedoci Non abbiamo più Un teradio Allora c'era un altro Eccolo questo Che stava finendo Vedrei che possiamo Scassarlo di brutta maniera Orca Marisa C'è qualcuno qua Attenzione Attenzione No Qua Ho sentito un respiro Ho sentito un respiro Porca cazzozza L'avevo sentito Niente Niente Sbaglio Ma qua non c'è più niente Che cazzo ci guarda fare Di qua Sono di qua Generatori Oh paladiano Oh paladiano Buonasera Come stai caro Non male Non male ragazzo Temerario Guardalo guardalo Buttalo giù Buttalo giù Eh 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 Ah sei fesso eh Hai la febbre Aia Questi Eh che Cristo Ah è qua 3 su 4 E poi si va a giocare A Survivor Con 69 69 Che mi ha Invitato A giocare Che praticamente Ma Visto talmente Tante volte Giocare a Buonasera Mary Mi ha visto Talmente Tante volte Giocare a Questo gioco Che S'era comprato Eh Sia lei Che Che uno Streamer Del Oh buono Anzi direi che Ci possiamo Oppure No Nobilessa Buonasera Nobilessa T'ho mandato Credo Per avere Il link Al gruppo Telegram Se ti interessa Di Fare qualche Chiacchiera Bene Bene Dai bene Ieri ho saltato Perché sono stato Un po' Un po' così Non sono stato Molto bene Diciamo Allora Vediamo un po' se Ti ho invitato Aspetta Allora Vediamo un po' se Eh S Non Non Stavivi con gli amici Forse Allora Vediamo un po' Cosa Se Non è già In game Anzi Direi di andare Subito Su Discord Che non è ancora Aperto Eccola Era Short Caps Lock Attivato Se aspetti Cinque minuti Arrivo Neanche C'è Che Non credo Aspetta Allora Vediamo un po' Di cercare Prima Alcor Allora Scusate Allora Giungi Nuovo amico Cerca Allora Alcor 3D Sì Eccolo Oh Aspetta Vediamo un po' Vediamo un po' Vediamo un po' Vediamo un po' No No Non parlo Se no Perdo la voce Ok Dovrebbe Unirsi Anche Un altro Ragazzo Direi Discord Ok Facciamo Il mio Ok Mando l'invito Allora Tanto entriamo in stanza Eccolo qua Buonasera Paladiano Ah si è mutato Si è mutato Giusto Allora Copia E mandiamo Eeeh Eeeh Qua Tramite messaggio Invia messaggio Ok A lui E A Lei Invia messaggio Questo è un profilo privato E' vero Ci offre gli amici Perché mi dice Installa Steam Va Vabbè Allora Perché non posso inviarle Il messaggio Cosa? Buonasera Ciao Alcor Prova Ciao Sera Prova Prova Che è? E' indovina Siamo super emozionati Addirittura Come state? È un gioco eh Sì sì Immagini Da Dio Da Dio? Bene bene Deve Deve unirsi a un altro Ragazzo eh Appena Max una domanda importante Tu hai mai giocato Con Mai giocato? Con una matta No Che sia eh A posto A posto Abbassatemi un po' Al microfono Volume Che volume? 3x Meno 100 Meno 100? Perché? Perché ho il gruppo Della voce Abbastanza alto Ah ok Aspetta eh Allora Voce Uscita Ok Ok Ora dovrebbe essere Autopalance Ok Io e Matta Siamo Posa sola Ma Mai No perché ti senti di merda? Io? Eh avvicina un po' il microfono Ma sono vicino Eh no Non eri vicino evidentemente Sì Max io ho un grosso problema Dimmi Dimmi Mi trova sempre Un killer Ti trova Eh Si vede che fai rumore Ma sono sempre fermo A volte sono fermo In un angolo della mappa Lui arriva lì Lì dove sono io Eh ma Allora Adesso racconto una cosa Prima ho fatto una partita Da killer Ho fatto una lobby E ho fatto Cercare di alcor La partita Finché Lui non era Il sopravvissuto Così Poteva Non so se si può dire Sta cosa Si può dire Vabbè Potevamo giocare Insieme Penso che Quella cosa Della concentrazione L'avrà sbagliata Tipo 40 volte In una partita Si Veniva fuori Quel coso di fuoco Che qualcuno sbagliava E dicevo Ma sei stato tu Sì Tutto il tempo È un impannato assurdo Buonasera Carcore Blade Buonasera Bentornato Eh Sì ma Sì Ma il nostro amico Paladiano Sì sì Aspetta Mandiamo un messaggio Qua Ci sei? Attendiamo Ma la chiave A cosa serve? Allora la chiave Principalmente Per trovare La botola Ah Principalmente Sì Cioè tu Lei in mano E ti fa Da GPS Sì Da GPS Sono arrivato Sul coso del fuoco Cosa intendi Cart Col Blade Mi porti il melone Per favore Che ho bisogno Di energie Per giocare Grazie Il coso del fuoco Questa è quello Che ho detto io Io ho detto Un coso di fuoco La ragazza Ah la ragazza Parlava di un coso di fuoco Ah ok Cello di fuoco Cello di fuoco E non era il tuo Oh eccolo In vita Ok Eccolo Buonasera Aspetta che è qua Jamie Xita Abbi pazienza Ma Cioè Il nome in verde È un po' Fosforescente Allora Gli occhi a quest'ora Fanno un po' I cazzi loro Diciamo Attendiamo Un buon paladiano Fino a quest'ora Quante partite Avete fatto Più o meno Io e lui Boh tipo quattro Quattro Una decina Pensavo di essere Associato Storbetta Ma perché Ma perché Ma perché Ma perché Cari amici di Max State assistere Te Che dite Se sente male Arcor Eccolo Salve Dimitro Sente male Jacopo Sto microfono Ora Forse Forse devi tagliare Dalletano Per parlare Però Ora 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 Va un po' Va un po' Meglio Ok ora mi sentite Sì 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 Alla grande Perché devo Parlare C'è il blocco Maggiore Nella tua live O è libera No No Mi salita Io Ma Ma In questi Maggi parte Dello stesso CSM E allora Comunque Anche la chat Vedo le parolacce CSM Mettendo in me Fanno parere CSM Non si dico le parolacce Sarebbe CSM Cos'è il CSM Centro salute mentale Ah Centro salute mentale E uno sì L'altro no Io faccio parte Dello CSM Eh sì eh È di Element Ho 15 kg Quindi Occhio Giocavo al futuro americano Ecco Quindi A posto Ma dobbiamo mettere qualche carta O Qualche cosa è la Qualche carta No Gli accessori Quindi sì Dobbiamo metterli Sì sì Eh Che cazzo Tutti i pazienti No no Eh c'è scritto Comunque Nella Nella descrizione Cos'è questo Forse Aumento Giornale No Il P-Frame Aumenta la probabilità Di essere portati In una determinata Mappa Springwood Non mi ricordo Chi giocava Alcore 3D Giocava O giochi Giochi ancora No No Quest'anno non ho giocato Ok Quest'anno non ho giocato Sentimenti con la società Ah ok Ok Divergenze Divisione Eh Ma sei in live Anche te Alcore No no Io ricomincio Ufficialmente domani Ah ok Ok Eh cosa fai domani Player unknown Allora vediamo Innanzitutto Che ho inizio Perché potrei iniziare Dal pomeriggio E se faccio dal pomeriggio Faccio Sì P-Pub-G Però magari la sera Vengo a fare un po' Di questo Anche perché Mi sta un po' Rompendo le pallo Ormai Sì Su Pop-G Sì 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 Troppi Troppi bug Troppi errori Di gioco Cioè Poi già so scarso Più uccidere Ma con Coldplay Dice ha picchiato I mister Secondo me Il coach Il coach Il coach No Sono una persona Molto buona Picchiavo solo in campo Beh Ti dico Anche questo gioco qua Non è esente Da bug No vabbè Ma questo Cioè Questo fa niente Cioè Ma quando devi Si gioca sulla precisione Di mira Ah Bellissimo Beh qua Ogni tanto Capita qualche Colpo Wi-Fi E roba del genere Ma sì Ma quello qua Lo puoi anche Lo posso supportare Dai Ma qua c'è il competitivo Di questo gioco Ehm No Cioè Comunque è rank Comunque già I rank ci sono Ah ok Però non Non è competitivo Cioè lo stanno Già giocando serie? Sì Passate Devo rinstallarlo No Eh ma Mi ho messo tutto a caso Ragnatela Lì col sangue Punti a caso Ovunque Mi ho messo a caso Sì ma ce la fa caricare Non ci voglia neanche Di leggere Le descrizioni Di personaggi Di cosa fanno Alcor Non mi dice niente Ma Ma io non lo so Ho avuto al mio stesso personaggio Perché Vabbè Comunque Max La fine di questa live Le strade saranno due Si O amerai Amata O odierai Eh vediamo dai Speriamo la prima E' più tranquilla Ok ok Tranquillo Ma scherzi Siamo qua per divertirci Il killer è morto Come il killer è morto Cosa vuol dire Il killer è morto Non carica No No ma Dimitro mi sa che Sei crashato a te Che non ci sei Siamo in tre Siamo in tre Io ho finito da mo Ma non è vero Non è vero Come manca Dimitro Eh Siamo in tre Allora sarà più facile O più difficile Però C'è anche un generatore in meno Quindi Vai facciamo questo Però non farlo scoppiare Ok Ecco inizia Non ci farò mai Hai visto intanto Mi stacco per evitare Lo skill check Amata No Non so se è funzionata Questa cosa Oddio Eh Cioè quando esce fuori Ti stacchi C'è un uccello Dove vai cazzo Torna indietro Cazzo Dal maiale Porca No 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 Stordimento Via 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 Alla bersagliera Olio cuore Merda merda Eh niente Mi sono incriccato Ah non mi ha messo La trappola Che culo Non mi ha messo La trappola Non mi ha messo La trappola Direi di no 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 Grazie Via Merda Eh cristo Sento il cuore Ma non vedo niente Ci va con me Ci va con me Oh mi è mancato Mi ha preso Non c'era niente Non c'era niente per Non so fare il juke Come dicevate voi Tutte queste mosse qua Cos'è il juke? Il juke I trick Le mosse Oh sono davanti a te Sono davanti a te Mantieni la calma Comunque vi sto profilo Le kill La maggior parte Nei Allora ti leggo Vengo? Vengo io Vengo io No no Sono qua davanti Sei lì? Ok Vai Fuori dalle palle Il juke È quando bevi troppo Cos'è il juke Il juke Che cazzo fa Lagga Minchia Ah ma è ricchi di te Ah è ricchi di te dietro Che paura Magari c'è un Qua No Qua c'è la trappola C'è il Per levarsi la trappola Di solito c'è anche ogni tanto Qua ma Merda Eh Eh chi lo dici Eh Qua niente Dove vai Nel Nel basement No serve per Aspetta eh Intanto Ci trovi degli oggetti Ogni tanto C'è una cassa Eh ma lascio anche Le macchie di sangue Eh sì 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 Merda Merda Porca puttana C'è una qui davanti Non ci credo Senti come si lamenta la mia Guardala guardala Sta maiala E non è un'offesa Max ma i totemi Cosa servono Allora i totemi Se Li Distruggi tutti Impediscono L'attivazione Di una determinata Abilità Tipo ad esempio Uccisione con un colpo solo Una roba del genere Digni se vogliono Che gli faccio Coaching Magari Magari Merda Via Eh ma sempre a me Eh 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 Vaffan Moc Digni domani pomeriggio Se possono Eh domani pomeriggio Boh Credo Dipende cosa intendi Per pomeriggio Perché in Italia Ci avete un pomeriggio strano Ah si Mi va da dire Tipo però Il pomeriggio Oddio chi è Madonna Che caga Ecco Mi ha messo la trappola A posto È perché Sto killer qua Ti mette la trappola In testa Del film Sono Ti scoperte La testa Ecco No no Cazzo Ti curo Il cazzo Ti curo Virgola No no Eh Ah cazzo Eeeh 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 Mamayala Eccola Eccola Sì 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 Vado vado Minchia Di sotto Lascia il mio amico Ah, c'è anche lì, tacci Madonna Dai, ci dobbiamo staffare Guardate che dove cacchio le mette le mani Cioè, lo sa solo che lei è Cioè, guarda un po' Mi sta cercando Perché sto gioco qua bisogna di coaching Merda Arriva a salvarti, cazzo Sto arrivando Uuuuh Dai, dai Minchia Eh, tua madre Jacopo, torna indietro e salvami E ti scoperchi alla testa se non lo avevi Eh, devi fare due o tre trappole Dai Jacopo, vieni Dai 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 Dio mio Dio mio Uuuuh Mamma mia Dai Grande Marta, mi sono perso nella scuola Mi sta andando a finire Dai, guarda che mi hai fatto fare Jagpo Io non ci posso credere mai Nella vita Quanto sei culo Abbastanza Un altro generatore Cazzo Porca Troia Merda 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 Eh, niente Ah Sei morto Eh Di nuovo la trappola Ma Porca Ma porca Puttana Sono morto Sì, sono morto Che sfiga Eh, già Oh, madonna Che figura di merda Dai, dai Che ce la faccio Dai, 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 dai Ci Sì, è Cosa Come faccio a tagliare Sto casco qua E devi andare nei Dei cosi bianchi Vedi lei Quindi Eh Sono caduta in un buco Ma ci credi? Eh, probabile E' che c'è il coso lì Dai Eccolo qua, ho trovato Ciamina Ciaminana Buonasera Oddio Che macello No, vabbè, magari ci curiamo nel mentre Comunque è un altro che vuole ammazzarci Comunque il ragazzo è full da voi? E' mi Perché C'era un ragazzo che doveva riunirsi E se è unito gli ha crashato tutto E si unirà tipo la prossima Va bene, non è un problema Magari se vogliamo fare giusto una privata Più tardi, non lo so Ok, ok Ok, grazie Allora Vediamo un po' E' come fa in generale Che non hai fatto neanche uno E' quanti skill check Basta Dai Possibile Ho sussato la cannetta però Sì Ma merda E' lì Eccola lì Maiala Maiala La canti un po' più su Ah ok Che non si vede nei geni E' lì Dopo la Sentivo un rumore Di geni Ma che cacchè? Ma qui sotto? Paura eh? Ho vinto Paura eh? Ti curo? Cazzo Eh madonna Eh niente Secondo me ci sta trollando Dai Certo Ti stai trollando Dai Mi nascondo qua Detto il divano Eh sì Non c'è di notte Ma Sì perché Buonasera Luca Pado Come stai? Io abbastanza Abbastanza di merda Come vedi No mi sussà la cannetta eh Sì ma è un po' stupido Perché sei dimenticata di appenderti Ciao goblin Ho finito la trappola eh Arrivo io Arrivo io Ho capito che serve Hai visto? Grazie Grazie Ci sta trollando Era dietro di me E è andata via Sì ci sta trollando Ha capito che siamo dei pezzi Mi ha guardato Mentre mi toglievo la trappa E è andata via Grazie Massaggino alla schiena Ah c'ho delle contratture che guarda Ma se me ne vedi Mamma mia C'è qualcosa di concentrazione Quasi ti rompo Come nuovo Come nuovo No non fare casino Che ti sente Passa a piedi No lei È lei Che è andata correndo Sentansi mare Vieni 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 qua Vieni qua Sto facendo un totem Ma dove stai tu? Ieri notte Ieri notte Una nottata Come un po' troppo alcool Con amici Ma mi sto riprendendo Saluta Saluta Max Ciao ciao Cazzo Eh minchia Sì ma E vaffan cuore Mamma mia Mi curo Dall'ambulanza Proprio Secondo me Ne sta facendo Ci sta facendo Farmare Se lei che no Mazzagino 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 5 euro Aspetta No eh Vaffanculo Che palle Vieni qua Vieni qua Lisa Dai Come fai Il cosetto Sì ma Dove cazzo è? Devi farne due Ma chi è sta gente? Madonna Ma non so Ma dove sono i generatori? Lo ritrovo Ce n'era Questo ha già fatto Minchia ma Io ancora non conosco le mappe Per me è questa Ma i generatori non sono sempre al stesso punto Brava curami Cosa fa? Ma Oh oh Mi sa che hai deciso di prenderti questa volta No No Figura Nice Ma guarda che situazione imbarazzante La carne alla brace Vai prendi Max E vai Dai Con il Wi-Fi Sta Vai Prendi tutti Sì ma gli altri gen È una scrofa giocarellona La faccia Sì ma gli altri generatori Cioè Cosa sta succedendo Ma Cioè Ma possibile O son cieco O boh Cosa sta succedendo Semplicemente per curarti e farei tutto Stai perdendo tempo Ma infatti Li ha nascosti Cucu Ciao Ricky Eh vabbè Giacomo piace farsi prendere Non so Allora Sì trovarlo Cioè Possibile Questa è per la casa Questa è per la casa Ma qua ce l'hanno già visto mi pare Sì Eh sì Cioè questa qua dove sono io sì Che non c'è Eccola qua Trovato È da uno C'è Minana Sento una voce da ragazza Ricky Sì sì Sono io Ricky Lei è lei Però non sto giocando Ricky quindi Sta aspettando Adesso deve fare tutto da capo No Ma cosa Sì ma che partita strana Dai Grazie E' del lost Jamie Xita Surprise Motherfucker E vai Avete sentito Sì ho sentito Di nuovo C'è L'audio di ritorno Sì Sì Aspetta Ti curo Ho visto il teaser trailer Quello a fare lì Ragazzi io non trovo il generatore L'ho trovato io Cercami un altro È occupato qua Sì sono su di sto Eh sentite Ecco Ah mi sto curando Vabbè Ok E poi faccio il generatore No mi curo No scusatemi Come ha preso lui Ti curo io Chiede la scrofa Se ti aiuta col gen Eh In effetti Signora Dov'è Qua con me No Che cazzo Sto facendo il gen Ah ok Stai facendo il gen Sì sì ma è qua dietro di me Che mi saluta Andata via Andata via Tu che lo stai facendo Ah qui dietro Porca cazzozza Un amichevole porca di quattro Ma dai ma lì Ma lì c'era C'era Vabbè Vabbè Che è stato Alcor Mannaggia Teo Incredibile sei Oh neanche lui lo dice a farne Ma che è Ma tutti Sto apposta Digli sei le qua Ne hai fatto uno Uno ne hai fatto Io ne ho fatti tre Adesso ci ammazza Eh no Chiede Chiede Paladiano Aka Dimitro Se alle quattro Qualcuno di voi due è libero Per farvi un po' di coaching Dopo le quattro Dopo le quattro Sì Hai fatti peccare Devi farti peccare Ma bebe Iacobo Via La farò Porca Croia Vabbè Ehm Cosa Ehm Aspetta che gli schiede A cosa A Dimitro Se Inshim Love you Biki Boss Malone No problem Ti mai Hai Boss Malone Non c'è Vabbè Vabbè Love you Biki Ehm Ok Si inviti Si ok Ok Allora C'è Dimitro Mi spiace Minana Ma c'è Dimitro No ma assolutamente Non mi da Anzi Sto guardando la live Ok Grazie Allora Uno Due E Ok Dopo gli Dopo seguite dal posto Ma potremmo fare Mora una privata Ripete Ok ok Comunque mi avrà Almeno tirato il giornale 26 volte Mi dice che Quando puoi Non scherzare più Non ridi Allora Andiamo un po' Stim Mocking Cos'è Stim Mocking Vuol dire Spiega Ricky Spiega Spiega Ah una faccina Ah aspetta Ah ecco Perché davanti a prima Non si era vista Vedi È l'eco È l'eco Sì È meglio Sì Aspetta che devo mettere Le ragnatele Pasciatura Barbecue Qua Sì Accetto Allora Allora Aspetta un po' Questa Ciao Vlad Quanto tempo E' spaventa ogni volta Perché si è maledato Oddio Ah Vediamo un po' Se riesco Eh si deve spostare Potrei farlo un po' Magari intrasparente No Putto Sei pronto Paladiano Paladino Paladiano Uh Vlad Max ti donerò Una parrutta Alto che zordi Vai vai Parrucca E via Oppure Donai i soldi Mi serve una parrucca Anche Anche Potresti Farmi cosa I cappelli di Zeb89 Che adesso è fatto pelato Costano soltanto 150 euro Quindi la minima donazione di 150 euro Max con la parrucca di Zeb Dai 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 Con il riportino Tu Alco Potresti dargli un po' di pelo Visto che hai abbondanza Ecco Quello del petto Bello villoso Maxi Ti rai l'altra piatta di capelli Grazie Del lost Minana Grazie Come hai dai Gli altri Minana ma noi ci siamo Abbiamo già giocato insieme Tipo overwatch è possibile Enricchiettivo Max è brutto essere singolo Eh oh Dai Enricchie Che prima o poi Boh Oggi sono andato a pescare E sono stanco morto Cos'hai pescato? Ma sei andato Fiume Un mare Un lago Un lago Due trote Un lago Minchia Ficco Ficco Ok Zero In occasione Che deve Uscire Nuo fin di Halloween Salve Comunque Max tu hai fatto alla grande con questo gioco Hai fatto un esploit Eh sì, grazie Sì ma sto qua? Sì ma sto qua? Ok, è dimetro Stava lì Consigli base, quindi mai correre è sempre a quotato? Mai, dipende Vedete Vado io Possibile dalle finestre Se devi saltare Cammina E poi salta Sempre che non ti stia seguendo Il killer Merda c'è il trapper 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 Trapperino Che mi sussa un po' il bel Eh? Non si dice Eh che cazzo Impazzito, impazzito Vieni da questa parte Eh vabbè che cazzo Dai che ho schiacciato lo spazio Oggi è il compleanno di mia sorella Auguri Fai tanti auguri Ma è la sorella più grande C'è sempre il primo che atterra Hai notato? Due partite Sei il primo eh Oh Eh c'ho C'ho l'abbonamento C'ho l'abbonamento io Eh Andrew Buon di Buon di Buon di Stamattina Andrew Ho giocato con Punch Vengo a salvare Vieni vieni Lo dire nessuno Nel K-Killer Oh grazie No no Paladiano Che hai fatto Paladiano Paladiano Vacci piano Lasciatemi Cantare Sono un Paladiano Ma perché De meglio C'ha il bagno Sì sì Ci siamo divertiti Sì assoluto Ma che riprendo A streamare Si spera A sentire Voglio vedere Come si avvolta La situation Tran Tran Non mi viene in palestra Quindi sono Non distrutto Perché c'ha Quei morsi Intorno Paladiano Quei ragni È l'ossessione Che facilmente Lui c'ha Il Decisive Strike Prego È il Il colpo decisivo Di solito Oh no Eccolo Dai Vai Cogliendo Di solito Darmi la mattina Ma dai Oh poverino Arrivo Paladiano Cerco in questa cassa La spazzatura E arrivo subito Trovato un kit La rumenta Si dice Stato Stato Campionando C'è la meraviglia Di nuovo Mi sa che mi ha visto Merda Paladiano Vaci piano Sono qui Paladiano Cristo santo Eh ma Ci sono io qua Con te Non aver paura Dove va Dove va Sto Si No Hai visto Zeba Meno cappelli Hai visto Meno cappelli Di te Poverino No poverino Mi ha fatto bene Ora basta Streama su Twitch Ecco Vedi RikyTV Subito Che Da dove digiti Lasciamo fare i cosetti Generatori qua Gem Aiuto 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 Qualcuna venga a salvarmi Aiuto Vai a salvarlo Non ti Eh ma Però non siamo importunati Ma no ma scherzi Pigia Ma perché Pigia 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 Oh grazie Ma mi tratta Ma mi tratta Ma mi tratta meglio Sì sì cura cura Qui non ti ha toccato il sicuro Ma che è morto là in fondo È più grande di me Mi chissà Eh Ma te Riky Te sei un bimbo Sei No 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 Merda è qua Merda è qua Via 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 Non mi sussare la cannetta Eh Cristo Uuuuuh Come viene anche il trovato Te Madonna Te l'hai armadietto Dai vaffan Che cazzo Arriva Max Arriva Eh Cazzo Sono io il compito Di porto un armi Max Ma dai Ma Riky potrebbe essere mio figlio Eh Altro che Chissà Magari lo è Eh chissà Scusa Sei qua davanti a me Già Eh Vieni Max Vieni 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 Arriva arrivo Aggressivo Aggressivo Mi sta cercando Mi sta cercando Mica ma ancora 5 generatori C'è Madonna Andiamo via Andiamo via Andiamo via Andiamo di sopra Non se l'aspetterebbe mai Vai vai Cuidiamoci Mi ha preso Ma sei 12 anni Andrew Smith Di chi sono Tua padre Ok Aiuto Dove siete Amici Madonna Aspetta Magari qua Una cosa C'è Manco Per Sì Invece C'è Va bene Non mi sta ammazzando Neanche lui No Mi sto curando in mezzo La strada Ma non mi ammazza Andiamo di sopra Mi ha tirato la coltellata Invece Mi ha illuso Mi ha illuso Io pensavo che ci amavo Io ti amavo veramente Dai Jacopo Vieni a me giura Ma sei un ragno Sulla spalla No Perché Oh no Vieni a ragno Andre Visto che sei mio padre Come dici Oggi Dici Oggi Sulla finestra Alla bersagliera Ma è questo qua Di fronte No Mi scherzavo Ma questo Merda Non mi hai visto Ne Mica Cazzo Nicola Di Bari Merda Non entrare nella casetta Eh Bellino La casetta In Canada BOOM DAI Ma Cristo Ma possibile Bravo Ricky Che sei nascosto Ecco I'm dead I'm dead I'm dead E' un'altra Mesta Quella finestra Eh sì Infatti Dai Il paladiano va E' E' Aspetta che devo leggere Ancora il tuo messaggio Qua su Steam Che Non avevo Faccio Eh No Che scemo Dove sei che ti do La valigetta in testa Sono un cretino Sono Eh che giorno Sono nato Il 4 aprile Sono un cretino Madonna Madonna Ma adesso se Jacopo Rimane da solo Può uscire dalla bottola Sì Non sei no Allora cerco di resistere più Che posso così Non lo lascio uscire Dai No Non sono un cretino Sono due cretini E infatti Di più Eh Madonna Proprio così Pum Può uscire dalla bottola Jacopo Non sei un cretino Sei un pelattino Cretino Digli però Che ora sono Che ora sono liberi Così vedo Vedo Di che anno sei Se si può sapere Indovina Indovina Allora intanto Direi che Minana Si può aggiungere Anzi Vediamo un po' Se riesco a trovarti Qua Su Steam Espo Allora Ah non sei ancora uscito No niente Devi cercare la bottola Allora Minana 98 Eccola Trovata No 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 Di più Di più Di più Assolutamente Sta al centro mappa Vero No Random Assurdo Senti un rumore Si fa sempre più intenso ma Ti avvicini Brava 82 Ho 82 anni Ho 82 anni E me li tengo bene Sono male Una trappola 82 anni Non male Per un 82 anni Ma perché questo mostro Ve le trappole Ma sei un giovincial Grazie Nei armadietto vai buttati Indovina che giorno sono nato Allora Sei nato il 13 Di giugno Manco sono entrato su DVD Già era l'ora di connessione Strano Strano Molto strano Ma perché il wifi di casa mia Un po' va un po' no Ti sta aspettando Ti sta aspettando Lì dalla botola No Su delle scale Ah ecco Impietoso Intanto Intanto io invito C'è una trappola Si è preso una trappola Invito te Niente Invito lei E invito Che non c'è ancora Ma c'è C'è ancora qua Cos'è Possibile Che sei così scarso Si C'è una cosa Dovevi fare Trovarla a botola No Ti sei messo Sotto la scala Perché nel mio paese La fibra non esiste ancora Vabbè Va bene dai Va bene Mi ha portato alla botola Ragazzi Dica Dica Ah eccoti Sei desiderata su dbd Ti ha aggiunto agli amici Ti invitatemi Nel frattempo porto giro a roba Si Allora 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 Ho mandato l'invito Su Steam Ho aggiunto agli amici Oddio Non ho ricevuto niente Aspetta Stavo giocando È vero però Consolati La mia non c'è 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 Ah no aspetta Facciamo la privata Che scemo Vuoi fare la privata O no Facciamo la privata Dai facciamo la privata Allora Facciamo così Allora Andiamo su Fanno subito Sì Uccidi i tuoi amici E chi fa il coso? Faccio io? No Tu sei esperto Abbiamo bisogno di qualcuno più Più Un po' più San Valentino Farò Ganno alla mia ragazza Se c'è No Cioè Più Più lei deve fare Ganno anche a me Ebbene Hai preso la maschera Che ti davano Se giocava Dal garden Sì L'ho presa Max Metti il trapper Ti dico La build Ok 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 Allora Allora Quante Ma non dovevi dire Vabbè Ma chi se ne frega Dai Da quanto conosci Altricore 3D E da quando Siamo nello stesso Network Sono da piccoli a calcio al calcio al parchetto Calcio al parchetto Ahahah Io metterei Un bel Un bel Bello E i corvi E quello E ti notifica per ore Chi sei là dentro Forza brutale Ecco Allora Aspetta Forza brutale Sì ma non mettere anche le carte qui Speciali No 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 Tranquilla Vabbè forza Facciamo una cosa Se mi vedi Non mi uccidi Ok 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 Tu Sei nudo No Sto scendendo giù Per te Ma non ti sento Non capisco Capisco Oh Quanta roba c'è Eccolo qua Sorveglianza silenzia Allora Sì Allora Resistente Niente Va bene Allora metto le mie carte Migliori Come vuoi tu Allora metto Vai vai Evasione Urbana Eccola Eccola Poi metto Parentela Perché Io non so cosa mettere Per te Ma si può mettere Ah vocazione Ah si 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 Questo Poi Ah resistente Io sto tenendo Le mie generiche Resistente Ingane C'è il kit medico Da ranger C'era Che cacchio Che cacchio è Madonna C'è Ce la posso fare Ingano Facciamo inganno La map E serve per Per trovare Gli generatori E altre Robbe Allora Vediamo Lampada Bizzarra Dove Mettere tutti quelli Rosa Così sono più forti Allora Sedici anni Ma come se ne avessi Quattordici Quello che Ok Anzi Ora vi Mi porto Minano Quanti viene Dai Aspetta Il primo e il secondo Posso Questo E questo Ma smettila Che stai facendo Ciao 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 Mickey Rourke Mickey Rourke No Che sei 5 a caso Questo è il tuo caso Dai su E che tu 5 a caso Bene Dai Bene Sì sì Stiamo facendo Una partita privata Ma non posso Scegliere i vestiti Che voglio Ma infatti Guarda assurda Cioè Non ha senso Questo gioco Cioè non posso Scegliere L'outfit Cioè Ho capito Cioè Rendiamoci Ma vieni 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 Sei benvenuto Ma scherzi Dai fastidio No Assolutamente No 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 Max Dimmi Ma è il quinto Che deve venire Eh 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 Sì Uh L'isola che non c'è Grazie Eh Mickey Senti un po' Vuoi unirti Salve Boy Ti vuoi unire Ho una privata Arrivi Grande Grande Visto Ecco L'ho trovato Mickey Rurk Mickey Rurk Oddio Che devo cambiare Un po' di impostazione Che carte hai messo Iago Hai messo quelle rosa Cioè Sti cazzo Di Di bot Quella è che quelle rosa Sono le più potenti Cosa non capisci Le carte ultrali per prendere me e te Cioè Ti vedi conto Mata Cioè Forse Perché hai capito Che siamo più forti Che Capito Che Che fare Io non riesco a scappare Nenca da me stesso Ma che se ci sono Ti faccio un flip flop Un 360 Un zig zag E questo E voglio vedere Come mi prendi Questo e questo Ok Aspetta Ah no Questo Aspetta E che cazzo C'ho la torcia Mamma c'ho la torcia Sì Sì Ok Prima pagina Trovato Con pazienza Vinzi birri Vinzi birri Vinzi birri Vinzi birri Hai avviato Sì Sì Ecco tu Sì Ho già mandato l'invito Ma è solo Non mettere la carta Tanti flash Miki ti chiedono Come va Cioè Rikki tv Ti chiede come va Eh Mi rispondo Guarda un momento Ninana Ma abbiamo mai giocato Insieme E te Max Io non credo No Ricordo Sì Però Probabilmente Mai giocato Perché da Più o meno Un anno Che tengo Questo pc E da un anno Che non ci sentiamo Noi Anche più Quindi penso Nino Come va Su Finito 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 Tutto bene Tutto bene Dai Che sta qua? Révi il gioco Sì, sai che c'è quel bug del cazzo? E fu così, che attendemmo? Che bug? Ma niente, non mi collega la partita Ecco Ma sai Max, ho fatto una partita E avevo un killer dietro la schiena E non ho sentito neanche il battito Cioè mi sono girato e me lo sono trovato dietro Eh sì Sorriglianza è civizza A meno che non è Maiers all'1 Anche Oh, ho la pig Ok Ma è legale questa cosa? Cioè potrei rischiare un infarto per non maturare la mia età? Trova Ne ho già rischiati i venti In giocando con te queste cose Beh per raccontarti Due volte ho avuto un infarto con lo stesso killer Nella stessa partita in 5 secondi Non capivo Ma chi è il killer? Mi giro e c'era uno che stava ansimando ed era ovviamente Michael Myers Madonna Vuoi invitarmi? Sì Allora Aspetta Qua Io vorrei fare ancora l'evento ma non lo faccio Allora ma quelli che volevano coaching Quelli che volevano coaching anche ora sono liberi E chiede Paladiano Dopo le 18 Dopo le 18 Ragazzi ma che cazzo è sto coaching? Scusate se domando Non lo scrivo va È il coaching Insegnamento Non funziona Non funziona Non funziona No mi giro il cazzo No che paga O se ti va a far culo Vabbè Paladiano Iniziamo Sì Pronti C'è un ragazzo qua Che si è offerto di Se vuoi Io ho già 450 ore Sinceramente Non per vantarmi ma me la cabicchio Cabicchio Bene bene Per esempio però se devo ottenere un killer non ce la faccio Se devo già lasciare sì Ok Se vuoi Entra Entra Paladiano Ok Ah non ero io Che ansia Ricordati la regola dell'amico eh Max Non ho capito Ricordati La regola dell'amico La regola dell'amico? Sì Non sbaglia mai Ma ti chiedo solo di non farmi paura Poi il resto fa quello che vuoi Tranquillo Sì sì Quella che vuoi messaggi C'è un'altra zona che mi sta dando perennemente fastidio Ammazzatori Non è che è quel mostro che non fa rumore quando è dietro eh Michael Myers Quello di adesso invece senti battiti Quindi sai che è presente Non mi fidi te Max Ammazzatori Ecco vedi adesso sta qui Oh porca droia mi sono spaventata Guarda qua Max che cosa mi hai fatto fare Brava 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 Puttono a terra e soprattutto se le disarmate vi riducono in stato di ferito Quindi non disarmate Oh Dio si è incazzata Non c'era riuscita Messaggini 5 euro piega Menti Jacopo dove sei brutto e infame Ok mi sta sapendo che mi devo sposare Sto schifo vieni a curarmi Jacopo sarà dentro quel carmadietto Oh starà facendo qualche gem Esatto Sto facendo i gem Premi Jacopo Premi Jacopo Vieni più lento E' il più peloso Prendi lui Jacopo se ti prendo ti gioco Orcazzuzza Avrei messo la trappola No Ah si però Allora la ragazza che vuole i messaggini di lì che mi devo sposare Paladiano Ma tranquillo Paladiano Anche Alcor è sposato Ma comunque ci amiamo un sacco Madonna E io sono fidanzata ma Vabbè Aspetta non mi prendere in questo Non mi piace questa zona Non ti piace? Ti porto più in là? Portami d'alcol per favore Che ancora non l'ho peccato Mi devo andare Dove andiamo? Dove andiamo? Dove andiamo? Non abbiamo finito Mancava un pelo Eh No Alcor Dove ti sei nascosto? Sai dentro un armadietto? Sono dentro un armadietto No mi sfrutta la scena Eh di va bene Ha visto Max questa gara Se hai tirato un calcio al mio generatore Ti giuro che te l'ho dietro eh Ah infatti l'ho fatto Nooo E per forza C'è andato via? Non lo so Mi so di no Non te l'ho dito Non questo fino a può passare No è qui No Max Non ti dita il biscotto Eeeh Aspetta Jacopo è cattivo Ma la curate sta ragazza o no Scusa C'è Sei serio Amici amici Poi ti lasciano per terra Striscere come i vermi Mamma mia Amici amici Ti rubano la bici ZAK Jacopo è a destra Dentro la casetta Vallo a prendere E' lì a destra No no Non mi hai tirato la palla qua per terra E' dentro E' lì a destra Vallo a prendere Ti vengo a salvare Non ti dico a nessuno E' lì E' lì nascosto Fuori dal capannone A destra A destra fuori dal capannone Dai Max la smetti Prova Max scusa Amata Che vuoi? Mi lasciate a terra marcire Ma si sta volendo a salvare Ma in realtà è già salvato Ma che cazzo però Fammi stare un attimo A cagare qui in pace Anche se io c'avevo il mori No no Non mi vieni per prendere il cuore Aiuto Sono giovane Sono giovane E' entrata Nick Ah partì per il mare Ah ok Il 24 Ma dove Posso prenderla questa? No Non c'ho la borsa No ok Scherzavo Ma dove vai? Ricky? Amiche di Ricky? No Ricky? Ah Da mandare io Anche io parto il 24 Come sprecare? Ma lo so Ma l'ho fatto apposta L'ho fatto dai Oh Max Passa sulla tua stessa strappola Eh aspetta No 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 Eeeh Chi c'è lì? No 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 Lizzo Mamma mia Però Mi hai bloccato Ma fri? Che bastarda C'è il mio E tu non mi hai curato Oddio perché sto crepando? Ah Il memento mori Sì Ma io non ci credo Ma ando io a pendermi per morire? Eh no Questa è una Una skill Una Un'offerta Praticamente Questa offerta Ti permette di uccidere a mani nude Senza appendere Ovviamente Si Però Però fa fico Fa fico Si E poi Diti un culo per quelli che farmano E roba del genere Io Sei a terra No Dovi usare un altro killer Questo non andava bene Max No Tranquilo Poi lo uso io il killer Dato che non conosco quasi nessuno Quindi No Puoi rilasciarvi andare Minana Dico Dove sei? Eh Mi indovino Forse forse in qualche armarietto Sperando che non mi trovi Forse forse Ho messo il perché Poi riuscite Non mi hai visto O tu non mi hai visto Ah Sta male Comunque Max Ha messo tutte le cartone Eh Eh Furbone Vai via Max Vai via Questo non va via Sa che sto qua Dov'è tua moglie Che ci voglio fare una chiacchiera? Mia moglie È di là A vedere Netflix O roba del genere In sala Dopo gli mando un messaggio in privato Eccola Benziviri Tanto è sempre e comunque Non posso Non posso Tutto all'ossa la trappola Non mi scusate È fastidiozzo So che c'è la trappola Oh non c'è la trappola Che cazzo Ti consiglio di metterle là Se vuoi uccidere Sì sì Ok Ah È morta Poverina Poverino No Sei morto Poverino Poveri tutti Poveri tutti Max è Eh sì No l'ho vista prima che uscisse su Netflix La serie Per quello ha messo Il surprise Motherfucker Appunto Quando Dox Sgama Dexter Con Invita Quando è finito Ok Sì ma No Ok Scherzavo Uno E due Vista molto prima che uscisse Su Netflix No Sto a zanzaro C'è un po' i cogliori Cogiori Sì cogliori Per non dire Altro No Jacopo Jacopo non si uccide Max Monello Grazie Grazie So che l'ha scritto tu Senza neanche Sì sì L'ha scritto L'ha scritto L'ho scritto L'ho scritto L'ho scritto L'ho scritto Sì ma quindi Che si fa Dei fare l'ultima kill Max ma quindi il killer vince Cioè a me mi hai trovato venti volte Continuavi a Trovarmi E a foddermi Eh oh Eh Adesso devi farle tutte Eh Il killer vince Quando ho una kill E basta anche No Cioè devo Cioè Fa punti Però Stai laggando Sì In teletrasporto Ah ecco Certe volte A favore del killer Ho capito No possibilmente Il killer deve fare 4 su 4 Poi Anche se fai 1 su 4 2 su 4 Cioè no Non c'è problema Ah questi bug Max è il sniper Eccola Killer spietato Cos'è che devo schiacciare Ora Abbandono a parti No 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 Ritorna alla lobby Fa tutto Max Vai alla lobby Guarda Alcor Ha fatto meno punti di tutto Che nabbo Che sei Ma che ti invitata a giocare Allora intanto Invitiamo Sì Poi Eccolo Passa il sopravvissuto Che è Paladiano Sì Paladiano Qualcuno di voi vuole fare il killer Alcor Alcor No No Minana Dai Si botte sulle Max Eccolo Dimitro Sì Allora Pezzo nuovo Non me ne faccio una fara Perché tanto Non è fatto a bestia A comprare di altre Voglio comprarle a bionda Come faccio a comprare la bionda Vuoi comprarle a bionda Alcune devi comprarle direttamente sullo store Su steam Altre puoi sbloccarle tramite i frammenti iridescenti Soprattutto i personaggi originali da gioco e non su licenza Cioè tipo quelle dei film Devi comprarli per forza su steam Chiaro Tipo Michael Myers Brava Sì Pochi più Leatherface Leatherface Freddy Krueger Freddy Krueger A meno questi Poi per esempio la strega o il dottore Che sono estraneo a tutto questo Tane ovviamente quelli che già abbiamo Un infermiere allo spettro Il trapper E il Qual è l'altro Nano Krueger Mickey Rourke Mickey Rourke Sono gratis Forse la strega o il dottore li puoi prendere Con i frammenti iridescenti Il resto hanno Oh nano Krueger Buona chiance Sto suono Raga ho giocato la carta dell'amicizia Oh Che parola Ehi volte E dell'amore Vediamo se viene bruciata Su Dario dei legami Grazie per l'avere me l'ho detto E ora Saremo tutti amici per sempre Mi troverò tutti In una bozzetta insieme Va bene Lasciamo quello Jacopo Schiazzone Da parte Immagini che spaventico Jacopo No vabbè ragazzi Che è random Non c'è Non è che Palatiano Tu anche se non parli Mi hai capito Ah già Hai capito Com'è L'affare La mappa È di merda Mi posso so tanto dire questo È di merda Ferma Sì Però ci sto facendo l'agitudine Quindi Ma niente Palatiano Tu mi capisci Vedi Lo stai con il piano Palatiano Jacopo Mi prego Ti mando un messaggio Con la mia mente Ok Vai Telepotica Tu leggilo E dimmi cosa senti Io non voglio Ma qualcuno è cresciata Minchia Rikhi tv Jacopo Ti trattano tutti male Ironico Rikhi Veramente Guarda Jacopo Il nostro Cuzzolone Che stai Dicendo Adesso vedrete Quando lo porterò Anch'io sto gioco Gioco con Zeb Forse è facile Eh devi portare al rank 1 No Ma poi Non vuole Gente al di sotto Le 500 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 Lasci un paio di notte Il gioco acceso Ma pronto Il computer acceso Con gioco Il gioco lì Siamo fessi Palatiano Non ti sei crashato Ti è di meno dagli amici Te lo dico Ecco Pinzibiri Pinzibera 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 Mi sto incazzando Sto steam di merda Piggio di Pugge Io sono quella Con le trecine Mi raccomando Ricordatemi Io ho il maglioncino rosa Mi raccomando Non mi ammazzare Perché sono Più scarsa Loading simulator Eh sì Loading simulator Nooo Che è questo? Chi sei tu? Indovina Comunque Panca Palatiano Eh sì Palatiano Nooo Vacci piano Alcor Oh disperato Ma Cala droia Ehm Mi raccomando Dove cacchio so Eccolo qua Mi raccomando Io non so Io sento anche il bacio Quando non c'è Merda Sono stamente in panico Sei crashato No è vero È crashato Palatiano Cazzo Ma non ci credo Cristo Ma c'è il computer Dei Flintstones C'hai Ho dei ruschi Ho dei ruschi Ho dei ruschi Vieni a cercare Cercare i totem Aspetta un po' C'è uno C'è uno di totem Ma quello è Fidder Mi fa paura o no? Sì Questo è Kill Your Friends Sì Chi è? È Kill Your Ruschi Kill Your Ruschi Da cazzo è? È quello che non si sente? No È quello che canta Una mi killer preferita Quella mi piace Cacciatrice Che bella Quella è Friand So let's take Carica o Chi è scoppiato? Palatiano Merda Cosa? Da oltre a lui Ti devo tirare fuori Eh che cazzo Eh no Cazzo Ma il bello è che Era caricato al massimo Fantastico L'altro giorno Assaggiatto Amaretto Come liquore Ti è piaciuto? Oh Sbrigolio Salsiccioso No Mi ti è piaciuto Il ragù qua Ragazzi Il ragù Il ragù Il ragù Dalla nonna No Non metti Infilare qua dentro Questo è Kill Your Friend Che è bugato E ho finito Di caricare Eh sì Mi spiace Palatiano Occhie qua Scusi signora Devo liberare Il mio amico Non posso? Via Versaggiatto Jack Daniels Che schifo Cazzo Eh minchia Cazzo La fuga O no Sì vabbè Cioè Sì vabbè Ma di già Ah perché la seconda È vero Madonna Ma c'è Sì Minana Sta facendo il killer No vabbè Cioè Ho capito Dove sei Madonna Madonna Salvat'i almeno tu Salvat'i tu Ok Averete tutti un malus Curatevi Luce morena Allora cogliere il drop Dei max Quanto vorrei giocare anch'io E invece Non puoi Cazzo Nicola Via Alla bersagliera Eh minchia Li vedo anche Il cazzo Di totem Gesù Bambino Madonna Madonna Cazzo E niente Eeeh Sì ma stime Troppo lontano No Vabbè Vabbè c'è Non ho visto dove sei tranquillo Almeno uno Riesce a farlo Jacopo No No Non c'ho troppa ansia Mata Madò Madò Potrei metterti dentro l'armadietto no? Non ci credo Mamma mia Aiuto 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 E niente E' strano stare nel vocale con tanti streamer Ma è capitato I migliori della piazza Eeeh Mega pizza e fricchia Eeeh Vabbè Ah infierisci Mori Max Mori merda Ancora Ancora Anche sull'anima Mamma mia Dai L'ultima 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 Facciamo Jacopo Non avevo teseri descente Come perché mi ha dato teseri descente Stai dicendo che è barato Un max Non c'è un cavo E che c'è? Perché mi hai invitato di nuovo? Dobbiamo accettare questo o stare guardendo? Come faccio? Ma uguale Ok Che fa il killer? Ok Eccomi Mi sbargo tutti Eh perché ho invitato Lui ho detto magari Ho invitato tutti perché Per Dimitro Ho detto magari Non riesce a Divinare una lobby Magari così Si spera No No aspetta Aspetta che qua Vai prontate Tutti pronti Bisogna vedere cosa Desce Paradiano eh Mi raccomando Nostro piano Oh meno male che non sono l'unico Ciao Ciao Kiwaita Buonasera Buonanotte Vista l'ora Coma la va Coma la va Preghiamo a tutti per i pc di paladiano Amen La minana l'ho messa al 50% Ma la sento altissima Ecco Madonna Eccoci Ciao Come va Tutto bene Chi vuol dire Va bene Più buonasera Va bene Rikki Dica Ciao 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 Finito 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 Madonna Eh attenzione Eh sta caricando da partito Attenzione Devo uccidere soltanto le due persone Che mi hanno ucciso Stasi Ah no anche Amate mi ha fatto l'uccidere Cosa Vabbè tu stai male proprio Io ho detto che eri nel cabannone ma per distrarlo Eh E poi dopo che mi hai fatto un po' di block Quello è sbaglio È successo Qualcuno è di nuovo crashato Amicia No paladiano No io Dimitri ti metto la pila dentro Dentro l'orecchio te lo giuro Ciao ciao Paladiano Oh vabbè Dimitri dove sei? Vediamo un po' se c'è un Potuto pc Hai bugato o co? Non lo so Cioè ma dai Oh ruski Oh bravo Fai te Ma la si è spettantissima con il killer Io carico Ma noi siamo partiti Dimitro Jacopo Cosa hai preso? Ah Rimice Hai preso il trapper raga No Ma chi è il trapper? Il cacciatore Ma la viene a mettere le trappole Stavo caricando Ma mi crasha Ecco Binzibiri O Riky Dica Non mi ha già la GS dai No Dai Ok ho capito Binzibiri? Binzibiri? Eh Nell'aria E' troppo in Italia Dov'è? Allora Eccolo Ma ragazzi Io non lo devo capire Max Eri in battaglia? Ma dove? Su Eccoti Cosa è? Uuuu Calma Ho visto Ragazzi Che cos'era? Alla bersagliera Finito 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 Oh oh E' tutto Devo scappi Mi hai lasciato Guido O Riky Chi è il rasta? Eh Sì Lo devo scaricare Lezio Ma io non capisco le mappe Ma dove sono? Brutto Vieni No Ma rimanca cartata No C'era un 1000 piedi gigante Vedo qua Non lo prenderà Finito Finito Fai l'alluco Fai l'alluco Brutto Bostro Eh Tieni tenuto il tra Eh Eh Tieni però in trast Corco diavolo Morto Ma questo è un problema Devi dire entrare Normal Amicra Ah Ah non è un gioco? Ah no C'era un 1000 piedi gigante In casa tua Finito Via 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 Se la banana Non ce l'hai Ma non arrogarmene Ma non arrogarme Raga ma siete napoletani Cioè Fatemi capire No 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 Sono di Genova Mi sono da Com Sono di Milano Io sono di Taranto Mi sono da Com Mi sono di Novara Bellino si sente che sono di Genova No Di Genova Sì Marga Bibbo Rip Comunque ci dispiace tantissimo Per quello che è successo là Eh cavolo Mamma mia Riperoni Riperoni Davvero Mamma mia Pau la gente Oggi son passato Di macchine Madonna Cioè C'ho avuto un nodo Allo stomaco Che non potete capire Cioè Immagino Dio mio Max è napoletana Di origini Calabresi Oddio A te la beccio anche Merda Schifa Sudicia Isetto che correva sul muro Madonna Merda Salute Salume C'era la ripetizione Cicic Ho fatto la ripetizione Che è questa stanza Che ansia Non è nessun di Manfredonia Sì Guardi Per favore Dimmi La stanza buia Ma quale La stanza buia Aiuto La stanza A luci rosse La stanza A luci grosse Che bello Max Ho già detto Che ci fai le donne Insegno Ma Ma Cosa vuoi che ci faccio Ho detto Aspettate Sì vabbè Io non l'ho sentito È rentato Mio padre Punch Falle ridere Falle ridere Purtroppo non posso fermare mio padre quando parla Basta no Quieta Il freeze Eh Ti grattare Tu gratti una tipa? No Il mio cane Max Dei pussi destroyer Vabbè Sono un clan Dove scoppare Ma no Ho visto entrambi Oh ma è troppo Sto Ho Ho Belli mens Dai Sto trapp Perfile La trappola Nel culo O se ne so Via Merda Via Vabbè Che Merda Ti do Solo vita Ti do Solo vita Eh Cristo Grazie 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 a te Carco Blade Grazie Finito Vediamo C'è il quarto Eh Dicevi Mickey Ecco Non ho ancora Sblocca Perché Ah no Vabbè Si è giusto Di pazienza Che non ci gioco mai Kill your friends Che succede Chi è Chi è Qualcuno Ha strisciato La carta Dello zio pepe Mi sa Kiwaita Kiwaita Grazie Saresti da sposare Ma Sono già sposato Quindi Un cazzo C'è 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 E quindi E quindi Prince No era per Kiwaita Anche per te Punchlit Era il bacio Per te Per Andrew Sei morto O sei ancora vivo Sono medio Ma vedi mezzo Importante Che nera No Anche per Andrew Eh Andrew Bravi Bravo Ragazzi Minzi 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 Eh C'è Spiegamolo un po' Quello Ah Ho preso la trilogia Di Stalker L'è iniziato Cos'era Stima la scorsa Quella in live Con Ignus Ma Ma scherzi Kiwaita C'è È il gesto È il gesto Che mi piace Intanto La quantità Proprio il gesto C'è Veramente Se ne avanzi Ah Vado Ok Eh Max Eh dimmi Scusa È bello Fa schifo Lo compro Io ti dico Ehm 19 19 Madonna A me non dispiace All'inizio è un po' lento Eh Allora Se capita Ignusa Ignusa Qua nella mia live Riesce a spiegarti meglio Che lui l'ha finito Ma Ehi tu Ignusa Ma cos'è Ma cos'è un gioco online Cioè No 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 È Ah no è un single player È un single player Sì sì Proprio si può giocare anche online Allora Aiuto aiuto Ma dai mio messaggio almeno Ehm Ehm Cavo Ma sei andato lì Faccio un po' Giller Faccio il giller Qualcuno vuole Eh ma Eh oh Scusa Chi vuoi Ehm Io Mica Chi vuoi Vieni qua Vieni qua Che leso Che leso Che Cosa 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 Che hai scritto Realmente Tu vuoi iscriver Vieni Mi ero Buggato Aspetta Diminitro Ehm Allora Mi si è Buggato La live Ecco perché Non caricava Ah Eh ma perché Ti guardavi la live Su Guardala sul telefono Scusa Eh Ti guardi la live Sul telefono E poi giochi Sul pc Ok GG camper Facile ragazzi Easy 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 Chiss' mai S Perché ha messo Quella trappola Infame per terra Sennò No C'è L'abilità Martini Oce Ehi talcini Ma Ah Sì Quello Sì 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 Capito Ocean Andiamo alla lobby Andiamo a comandare Andiamo a comandare Intorno alla lobby Andiamo ad asfaltare I ruschi Allora Allora Nel frigo Sì 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 Oggi mi sono tratto Due ruschi In team Quando parlate Due miei amici Mi sono stati Incoglioniti Mi davi le info E non ti ascoltavano Morivano Iniziavano a gridare Ti davi le info Che capito Mi Madonna I ruschi sono Trescimi Inizio Caro Eh Ma 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 Trescito No Trescito Così Soltanto Che poi Loro Ti fanno Quello Tapping In testa Subito No Mi Io Sto Imporando Ultimamente Sto Poi Sto Facendo Le braccialestro Sì Ho cercato Un sacco Le persone Perché tipo Io sparo Abbastanza bene Con la Con la Digole Con l'USP Quindi Mi entra Il one top Mi inizia A tiltare Adosso Alcor Ci sei No ragazzi Questa è per me L'ultima Ah ok Ok Quindi Chi si Vuole umire Fanno un sacco Ridere Ti giuro Cos'è stato Ieri sera Come non trovi la pagina Mi sono fatto No L'altra sera Non va Due Cosi Due Braccialestro Grazie Ciao Ciao Alcor Grazie Ciao 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 cara Ciao Ciao Allora Chi dobbiamo invitare Allora Dimitro Ok Mi chiamo Juno Juno Rackings Ah 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 Chi è che devi invitare Allora C'è un altro mio amico Che si chiama Tipo Fanatic Power Ehm Di Steam Sì Sì Si Si chiama Gamers Coven Il canale Aspetta eh Canale Di chi? Canale Ah mia chat Telegram Mi chiedono Come si chiama Magari la cercano La trovano Scritto così Aspetta eh Ma cos'è Element Gaming Una Community? Community e Network Ma serio? Sì Buoi Ci sta anche Tiger Tiger? Tiger Ah sì 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 Quindi che devo invitare? Ehm Allora ma a sto punto ci facciamo un'ultima Almeno Pubblica Facciamo pubblica? Dai Eh sì dai Dai Io boys vi abbandono Ok Ciao 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 Miki Ok Ok Sì ma poi ce ne andiamo a dormire tutti direi Ciao 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 Allora Sopravvivi Aiuto Io c'è un'altra cosa C'è Vlad In partì Eh Potrei invitare lui Gli mando l'invito Poi Noi è l'ultima volta con chi abbiamo giocato Potrei venire anch'io Se vuoi Se vuoi sì Allora C'è questa volta qua L'ultima volta L'ultimissima Che ci rompere io Allora Il killer era Ehm Ritelchi No Aspetta Chi era il killer Vabbè Vabbè Alcore 3D Era Fri sopravvissuti Ehm 69 69 Eh si chiama così su Twitch lei Qua si chiama Amata Lì su Steam C'è un altro nome Un po' Ingarbugliato Il killer era Eri te Milano No Ma forse quella prima No Cioè io mi ricordo che abbiamo giocato No abbiamo giocato tutti sopravvissuto E abbiamo giocato Ah con Psycho Psycho Ah Ah ok ma Ah Quale Normale Non privato Ok ok Sì normale Ok ok Sì sì Dai Vlad Vieni Su Dai Eccolo È arrivato Pietro Pietro Eh Max amore mio Che carino Comunque Link è valido Ragazzi Di Telegram Eh No Viva Buonasera Eccolo Bella Buonasera Ciao Ciao ragazzi Ciao caro Come va? Bene Stanco del lavoro Va bene Chi è? A sto punto Facciamo privata Siamo ok Io ho nascito a te Max Che attraverso Eric 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 mi ha conosciuto Quando io facevo il killer E Se non erro Col giorno Non mi pendeva bene La linea Quindi non solo Crashai Però prima di tutto Inviare amici Su lui Quindi Mi piaceva Nel mio discord Ah Sì sì E facciamo Allora Ma comunque Max Dimmi Aspetta Prossima settimana Sì Nel senso Questo fine settimana Prossimo Inizio Vado a prendere La carta Che mi dai soldi Dietro Tranquillo Cioè Beh Prima arrivano gli iscritti Nuovi Eh sì Vabbè Io vado Ciao Ricky Ciao Ricky Ciao Ricky Buonanotte Buonanotte Notte 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 Call Ho detto Mi dispiace Sono Dimitri Sgozzino Comunque piacere Pietro Smusi Piacere Non puoi leggere il nome Master of Dominion Ho un soprannome Pietro Smusi Mi chiamo Ma state giocando Dead by the elite Sì sì lo so Thank you Jonathan Ah yeah Eccoci Max Dimmi Diggilo a Milana Che sono il tuo Amante Sì eh L'ho il mio amante Sì sì Non ci speravo Invece Io Io Comunque Max Ti potrei consigliare Per la live Intendo Sì Mentre giochi Potresti mettere una canzone Tipo di sottofondo Ah Che tipo Noi su Discord non sentiamo Però che Gli altri Nella live Sentono Nel senso Ok Mettere un po' di ambientazione Sì 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 E poi la stoppi Quando inizia la partita Ah ok No no Quando c'è la partita Proprio di sottofondo Per fare una base Ma tu ti senti lo stesso Come fa uno Streamer Che ho visto E lui ha tanti iscritti Dimmi una cosa Inizia con la C Lo streamer Eh Si chiama Oddio ti dico subito Dammi due secondi Ma sai che amici iniziali CR Eh CR Credo Red Jack Eh per il aprile Ma no Si sperava Nell'altro C'è Crysness Esatto Lui mette Nella song Sempre Ma ha fatto due host Ma ha fatto In una settimana Wow Uno con 77 spettatori L'altro con 107 Max non mi inviti Eh siamo pieni adesso Tanto per Midana È l'ultima Sì infatti No tranquilli Tranquilli Per Midana è l'ultima Sì Penna ci Ci liberiamo Penna Mi sa che Paladino Paladiano di nuovo Lissiano Di nuova Penso proprio di sì Ma secondo me Devi vedere un po' di impostazioni Perché è impossibile Che cross Ma con Midana Dica Quanti anni hai Venti Oh boh Siamo della stessa età Bella Buonanotte Dio boh Eccoci Ma secondo me Paladiano Non ci ha fatta E invece c'è Incredibile Wow Non ci credo Sì però sta fermo Come sta fermo Sai che È la cacciatrice Che palle Non fa rumore Atenzione non fatevi a tener vlaaaad che cazzo è? ma che è? mi stavano chiamando a quest'ora ma che cazzo è? come è max questo kill? eh merda e ce l'ho dietro no volevo capire se fosse bravo è chiamata persa ma chi è? ah Lorenzo che eh aspetta ti mando e ora ti dai che ora mi perdi dai che ora mi perdi dai che ora mi perdi e ora un po' di esercizio e uno e due e tre e quattro oh grazie vlad no mi nana niente mi nana dimmi sei il primo nella classifica degli italiani grazie spettacolo ragazzi lasciate sempre un follo a max ma si tranquillo che lo lasciano lo lasciano questa sta qua sta qua sta qua merda merda questo non va via fitz18 si è unito alla congrega benigno grazie grazie fitz18 grazie benvenuto alla congrega dei gayner max visto? eh mi ascoltano sono pietrosmusi ma dai ma è ancora lì quella ampero dai che palle aggiunto nuovi suoni si alla si si vai via vai via si si soprattutto quando mi fanno lost merda merda non sa che sono qua la cacciatrice attenzione max il migliore ma ti leve dalle palle ti leve dalle palle max dimmi mette in moto che faccio troppo casino con le patate ok ok hai lato sopra io dici eh aspetta perché mi sei dovuto mi stava chiamando chi va aiuta su telegram ora merda non c'è qua qua no si questi chiede che su sana cannetta madonna mi sai che l'ha portato nel basement o no l'ho portato qua no ma lo campero vabbò è sicuro che se fa così vinci che si tranquillo no e forse lo stava camperando troppo ci fa anche capire orto dimitro slash paladiano che brutto che brutto che c'è chiede dimitro scolzino e paladiano 44 oh ti le porto eh sono io l'unico pietro scolzi che può fare dimitro scolzino i gorghi quanto sono alto sono alto 1.83 riflessi di un filino gli occhi sopra anche alla testa io io aspetta lì sopra la testa tipo così ci vedo un cazzo ma basta mi sono rotto di questo gioco che c'è ragione mi dicono che sei basso ironico deve dirmi grazie questo vladyslay che l'ho salvato con la torcia eh oh ho visto la botola vladyslay baby don't hurt me eh aspetta vado io vado là già la seconda volta o la terza che è stata appesa seconda io ricordo seconda e se poi è terza boh ok questa è la seconda prendo io no ah no ah no si eh merda 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 sta camperando si che zoccola io sono 166 sembrava un po' più basso quanti anni mi dai così che palle facciamo così va forse abbandono per sempre sto gioco perché è diventato impossibile minchia 36 ci hai preso niente campero che palle notte dimitro notte paradiano buonanotte mi spiace eh che caldo niente eh non vorrei offenderti no perché eh che ca eh ma non ti devi scusare vlad una colpa tua aspetta un po' io sto scelto ce n'era uno lo faccio max dimmi hai un potere maggiore della figa perché perché c'è una streamer femmina e di solito le femmine sono piene di follower invece sei tu no via 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 si 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 va qua ti è andata di sotto va di qua si ma cerco so della la cacciatrice e non senti la skill check molta attenzione bene ora siamo a campare a burigian miana fai qualche sport chiede a riki tv no no facevo pallavolo però adesso non lo meno infine poter ok cazzo iva sì ma un altro gen che cazzo è purtroppo sono morti tutti ah pensavo di farli qua c'è solo una finestra però c'è solo una finestra però merda che cazzo è Ma che ce l'ha con te? Si, è qui dietro Le siepi Minana io faccio palestra e nuoto Dice Ricky Ah mi piacerebbe anche a me nuoto Comunque forse Ricky sai dove ci siamo visti? Nelle mie live Anche se Vabbè ce l'ho io dai Ma sei live? Minana? Si Ma come ti chiami? Ne ho stesso nome Aspetta Non ti trovo Minana 98 Sono a metà E baffa No sono rimasta incastrata Ecco Mi distrae Ricky Comunque Minana Si sono stata presa Comunque Minana sei molto carina Dicono qua Ricky Con l'occhio e lino E la lì E baffa Thanks Ah ho visto dove Vicino a te c'è il totem Lo faccio? Si fallo Cazzo Ma che cazzo? E te lo faccio? E niente Merda No Merda La Tauto Ma che car... Non scrivo più Ma che car... Ma che car... io boi sei figa di io boi scusate dai dai non c'è rimane andata così io devo abbandonare perché vado a dormire ok grazie mi nana un abbraccio buonanotte ciao ciao dai ce ne facciamo una poi vado a nana anch'io ma come max ma così mi lasci eh una ne facciamo 5 e ora comunque sopra ho scritto aspetta allora comunque sopra ho scritto che pizza incontra le ragazze nuove ma sono più grande ah ok ah ecco l'ho vista adesso oh c'è il gaffa anche eh no scusa gaffa ma mi si è mi si è Pietro asmusi ma non ho la chiave di scorta per andare in giro con la moto in garage a prendere il treno 10mo kill buonasera facciamo l'ultimo e stop eric è mio figlio praticamente ah sì c'ha 16 anni potrebbe essere mio figlio sì la nonna in garage no te che vuoi ita grazie ci sentiamo su telegram ti scrivo appena ti aggiungo al gruppo abbi pazienza che Max dimmi sono per te grande oh my god my friend è la mia nonna in garage col cosa? come è la mia nonna in garage con te ci sei? aspetta allora invitiamo anche lui aspetta dove sei? sex but old? sei tu? ecco fatto perché prima ha scritto gaffa non ho neanche letto su dai vieni quindi ah sta avviando forse il gioco comunque si mi sa che devo mi sto cercando fratelli e rumeni per comprare rame oddio ecco minchia livello 6 ok madonna i'm not sure if you are aware for but i've been working on my computer for one so i'm not for sure ma è poi eh yes ma che era riferito il solito nome da coglione eeeh ad Andrew se è sexy but old ci ha scritto che fisicaccio che buono oh ho trovato fratello per rame aspetta che cambio capigliatura andiamo da parrucchiere ok ora va meglio ora posso essere vostro padre brutti strontza ora siamo fratelli entrambi ogni tanto mi pagano se da mia lanza sono mafio ma è comunque max voglio che impari bene però mayors eh sì ma anche se ci mi fisicaccio se vabbè questo perché è difficile non è semplice eh sì eh sì in realtà speriamo che venga facecamperato quel davide nudo non vorrei distrarre la signorina se si va tutto what the fuck no no lo consenti forse di identità ma no che cazzo ogni tanto dai max ne facciamo due dai dai dove se ho vinto no comunque ho guardato per la roba lì che ti ricordi scorsa volta che ti dovevo donare però dicono come se la carta fosse bloccata non ho capito e però c'avevo soldi c'ho 40 euro dentro non riesco a capire non ho proprio idea 5 euro piega per massagini 5 euro 10 euro ma quanto è bello dimetro sgozzino si è ho trovato un maleducato cazzo indichi collion no dai dai siamo seri dai sì infatti le lezioni fatte uè frigoriferi abbi pazienza che l'altra volta ti ho lasciato al follow insomma non sono stato praticamente in live ho dovuto spingere il computer perché ero nero dai miei ero da mia dei ero da mia ero da mio fratello il mandriano allora ho dovuto spingere il computer eh sì sì eh allora è strano sì come stai per il resto tutto appena tutto appena sì ma Andrew face sexy but old ma bene dai bene martedì riprende a lavorare vado io ok niente come ho detto cazzo è eh merda finisco il gem meno male max eh invece direte che era insidious ok visto ha insidious e il capra nel basement praticamente con insidious stai fermo un tot di secondi diventi invisibile si eh merda bravo dimitro merda non ce la faccio entrammi sul basement vax ecco vai vai tu vai tu mi lo distranco al massimo non ce lì è ma lì arriva dentro merda non frate lo poi mona chi appogna insomma ma è stato anche un altro mi ha fatto qualche privata merda si ma è lì cazzo è qua no no tranquillo tranquillo non viene va giù dai vieni via vieni via che cazzo eeeh una bestia addirittura ce ne vuole ce ne vuole eeeh eeeh max ti vedo ti vedo togli per scrivere eh si è fatto si si e che cazzo cazzo è fatto la strada si fai fuori letterface di merda ok ok due piccionino con una favola eeeh si va beccia dai dai via 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 eeeh 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 che cazzo sta succedendo è delirio qua delirio 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 ne volevo questo cazzo 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 la cazzo il cazzo La paura non sono vita. Ah, un gioco divertente! Ok, via, via! Aspetta che tanto guardo! Aspetta che tanto guardo! Aspetta che tanto guarda! Aspetta che tanto guarda! Aspetta eh! Oh, non viaggi la tua? Oh, non viaggi la tua? Oh, non! C'è qui ancora il tuo gatto.. Non vuoi? Questo gioco è troppo figo. Ah bello bello. Ben che abbia paghi numerosi, una roba del genere, è uno dei giochi che mi ha più appiazzonato negli ultimi anni. Bravissimo. 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 Grazie a tutti i romeni, non scappa la sede. sono scappato ma grazie grazie del forno grazie non riuscivo un po si riesca a mandargli facciamo l'ultima l'ultima poi si fa a nanna ragazzi livello 31 no usate ora certo max fatto perchè alla fine se ti capita una cacciatrice è facile con david king adesso ti capita un colline con una sega in mano no c'è senza era ma grazie Aio ragazzi, tutti i fratelli rumeni ora Allora Max, io ti ho iniziato a seguire quando avevi quanti follower, non mi ricordo più 150, forse, eh no, meno, può essere Mi sembra che ne avevi sui 190, 100 190, ok No, 90, è 90, è 100 Eh, puoi sì Sì, sì Eh, ti ha fregato sì col perk Vi ringrazio 1, 2, 3 Sì Sì Mi dispiacciono le trote, sì sì È un po' che non ne mangio, eh, sinceramente Sera un po' di tiro Io me le faccio Le trote? No, le trote Beh, lasciamo stare Eh, ti daaaa Eh, ti daaa Da un po' Max, sei il migliore Eh, dai, ti da No, 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 hai battuto redcheck Quello che ti dico che è ha tanti iscritti, te lo dico subito ha 977 follow e tu che ne hai un quarto rispetto a lui hai più spettatori lui ne ha 8, tu ne hai 10 ma qui alla fine come Zep pochi iscritti però sono veri quelli infatti, infatti tanti iscritti sono persone che mettono a tanto per si, ma metto il follow ogni tanto a passo esatto, passo lì dai mettiamo a follow andiamo via non lo cago più ho visto, si, ho visto il look di Zep ho visto nella pagina pizzeria Zep 89 comunque ti dico Max ho visto la live di Zep in quell'istante gli hanno donato 1.500 euro 1.500 poi li hanno anche donato 2.800 circa in un colpo minchia in un colpo ma perchè l'altro usa i bot? che bot? no fecchio che dice non eurobiz? no le donazioni sono a me Zep sembra un babbione e Zep cioè è tanti anni che che robino ora anche su Twitch fa ridere si, madonna Zep fa ridere se hai creato il suo personaggio ci può collaborare e questo è questo il bello essere te stesso quando fai le live o cose si, si si ha tanti spettatori puoi vedere la pelata e e Zep come personaggio lo adoro magari non con le video eh comunque Max l'hai sentita sta storia? mi ha raccontato un mio amico che c'era questo eh Twitcher uno streamer tranquillo si miliardario si è entrato nella live di uno solo perchè l'ha fatto vincere a Call of Duty Ghost ah gli ha donato 10.000 euro porca trono ma serio? serissimo a uno ha fatto una scommessa hanno fatto tipo una maratona che riusciva a vincere più partite se lui vinceva non gli dava niente a lui se lui perdeva gli dava 100.000 200.000 dollari non so di veri eh sono serio cacciatrice via 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 non sei quei negri che muoiono sempre primi cazzo a me non fa ridere poi con Simone si è fatto una fig... Simone è chi? scusa? va in Mona porco in testa proprio in testa merda 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 attacchiato no ah si 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 Simone da lì secondo me è tutto un teatrino eh io sono 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 nel gruppo di telegram di Gheiazzer quello che fa i doppiaggi dubbio come se è vero spiton corto si ma se fai critica vera un conto ci può stare a fare a fare così flame gratuito si Gheiazzer è molto sottovalutato secondo me se venisse su Twitch lui e si mettesse a fare i doppiaggi in live Gheiazzer era QueenNikuria era fino a fino a ieri era QueenNikuria infatti lo lo seguo su Instagram no? le risposte alla sua storia e ho detto cavolo sei QueenNikuria? eh ma sto giù andando via se prende c'è una cacciatrice attenzione c'è una cacciatrice attenzione no? no? ok ok Zeb O lo ami o lo ho Cosa da fare Sì Sì beh ma Adesso Zeb Più Kenneth E meno Zeb Ah ma l'ho già salvato Quindi Sai ci sta eh Già 30 anni hai Grande Ma che è stato Non era Ah C'è proprio la caccia È vero Non sento l'audio Non senti ragazzi Non sento l'audio 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 E' un'altra cosa che c'è l'iniciatore? C'è l'iniciatore? C'è l'iniciatore? C'è l'iniciatore? C'è l'iniciatore? C'è l'iniciatore? Fila di là! No, no, di qua, di qua, di qua, di qua! Ti ho messo qui dietro, va? No, no, no! Andiamo di qua? Facciamo questo Però non c'è l'audio No, ora c'è, ora c'è Ok All'iniciatore 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 Non c'è sempre che Per prima le fa Fin'è il po' Non fa Si, sì Ehm, facciamo quest'altro Facciamo quest'altro Facciamo quest'altro Ehm Ehm Ma il tuo tuo non frega nulla azzetto, non parla perché fa... È morto. Eh, vlad, sì. Sì. Minchia, com'era la sciama adesso! Ma... Olipsos, benvenuto, benvenuto, grazie. Da qui è l'ultima. Si va? Alla bersagliera, ragazzi. Alla fantozzi. Oh! Sì, bene. Ah, poi mi chiedo... Eh, lì c'è lì fuori... Mi chiedo come facciano certi canali su YouTube a fare 500.000, 600.000 visualizzazioni di ragazzini che fanno cagate. Ovviamente ci fanno video contro. E allora... Eh... Andrew! Dove sei? Ho finito la torcia? Eh, via. Tutto, insomma, è andata bene. Sì, sì. Perché alla fine ci siamo organizzati. Eccolo lì, eccolo lì, eccolo lì. Che lo stai inseguendo. Vieni di qua, di qua, di qua. Guardala. Vieni, Andrew! Vieni! Vieni, amico mio! Sì, sì. Andiamo, andiamo. Dai, vieni! Dai, vieni, Troia! No, perché sono uscito? Ma sono un coglio... No, guarda... Dai, andiamo. Ecco, sì! Mi fa violoso, è serio. Cioè... All'epoca prese... Ah, credo... Sì, ma... Ma non risolvi niente! Non risolvi niente! Non risolvi niente! Sì, ma... E sinceramente... Di YouTube... Di parte pochi... Poca roba, non è che... Seguo più... Vedete che se sono qua... Cosa vuoi che... Eh... Senti... Senti... Le cose che gli altri non dicono da antepaesi... Ragazzi... Max... Max con 14 spettatori... Bella! Grazie a te, Andrew! Un bacione, eh! Quindi non erano cose banali... Non credi... Le foto che ho messo... Come immagino il profilo... Ah, ok... Ho fatto una banale... Infatti... Ne ha fatto solo uno... Grazie a te, Mary! Magione! Ciao! Eh... Eh, ma io li son fatto così... Cioè... Quella intuizia... È stato furbo... Ma... Cosa? Simone... YouTube fa cagare, dici? Sì... Cioè... Eh... Sai, ha preso un format americano... Visto che andava... L'ha portato qua... Chiamalo sce... Max... E dimmi... Fai una partita con Freddy... No, vado, vado, nanna, vado... Ma sì, è veloce... No, no... Vado... Tornati un attimino... Un attimo in chat... Ah, su YouTube... Seguo gli otopi... Dai tempi... Delle recensioni... Zeb... Ci sta, dai... Sabaku... Mi piace tanto... Anche se non gioco a Dark Souls... Cioè... Grazie, Ricky... Grazie... Che dire, Ricky... Sabaku per me è... È il top... C'è una proprietà del linguaggio... Secondo me fuori dal mondo... Che non ce n'è... Poi va bene che seguo quei due cazzoni... Sì, sì... Cioè, deve avere una testa... Una testa... Fuori dal mondo... Però se tu ti guardi i primi video... Il primo video che ho fatto di Dark Souls... Era molto più... Cioè... Si parlava... Ma era più tranquillo... Cioè... Anche ora... Fuori pastelli, robe... Cioè... Eh, infatti, Vlad... E... Vabbè... Quindi ho sul server... Che poi, vabbè... Anche lì... Piacciono... Non piacciono... Peso confidenza... Bra... Eh... Sì, sì, sì... Eh... Si abbacco in gamba... Davvero... Tra l'altro ogni tanto... Fa dei live anche lui... Su qui... Ci fa tipo tre volte alla settimana lui e... Mi sa... Un... Un crollo sul primo canale... Eh... Non ho fatto caso... Si... Lenguaggio... Sopra la media... Sopra la media... Scara di con... Ah, ok... Eh... Si... Comunque hanno detto che adesso, quest'estate, sarebbero un po'... Un po'... Un dico seduti sugli allori, ma... Calmate un attimo... È di italiano... O... Non so... Ah... Parliamo di Frosdy, parliamo di videogiochi, ogni tanto, anche se cavolo c'è degli occhiali che, madonna, il frigo, sta anche il frigo, io, io, tanto tempo fa, però, roba di chitarra, è buono, c'è, Gian Baudrelli, Volsciente, Max Italia, eh beh, Volsciente, anche lui, qua su Element Gaming, intendo la stessa neppure, e, Gian Baudrelli, sì, non mi ricordo che roba la faccia, però, sinceramente, in Africa, se è andato in Africa con l'Win, minchia, Gian Baudrelli, Gian Baudrelli, Gian Baudrelli, ragazzi, patato al miele, veramente, Buonanotte, ragazzi, un bacione a tutti, grazie, buonanotte, Max, buonanotte, ciao, è meglio Ciao, ragazzi